Buongiorno e ben ritrovati da Matteo Torrioli con questo nuovo appuntamento con la rassegna stampa. Andremo a leggere le prime pagine dei principali quotidiani italiani che quest'oggi aprono sulla, a quanto pare, imminente crisi di governo. Ieri c'è stata la votazione sul nuovo MES, è arrivato, sono arrivati i voti positivi, però rimane in bilico la posizione di Conte perché il leader di Tagliaviva, Matteo Renzi, che esprime comunque una piccola parte nella maggioranza, ma comunque rilevante, visti che i numeri sono abbastanza stretti, continua a fare pressioni su un cambio di marcia. Troveremo solo su un giornale la notizia della scomparsa del calciatore ed ex attaccante della nazionale Polo Rossi, campione del mondo dell'82, quando segnò dei gol pesantissimi, diventando per tutti Pablito. Era malato purtroppo da tempo, da annunciarlo è stata la moglie e Polo Rossi lascia tre figli, ovviamente condoglianza a lui e a tutta la famiglia da parte di tutta la redazione. Cominciamo a leggere i nostri giornali, cominciamo con il messaggero di Roma che apre con una notizia riguardante proprio la capitale, i soldi del recovery che dovrebbero arrivare, speriamo, ecco il prima possibile e il loro utilizzo. Andiamo a leggere Roma e la beffa del recovery. Scompare il progetto importante per la città che Conte aveva promesso due mesi fa, confermato solo il collegamento ferroviario con Pescara, al turismo, 3 miliardi su 196. E qui la notizia della quale vi parlavo, messe via libera al governo, ma ora Renzi vuole la crisi, il premier a Bruxelles, a mani vuote, il premier Conte resiste, si legge nell'articolo di Marco Conti, pur tra i dubbi del PD, ma ora Renzi vuole la crisi e lancia un ultimatum, verifica a gennaio. Vediamo, di spalla sulla sinistra, sempre a proposito di quello che accade al governo e le ricadute su Roma, la scelta irrazionale di ignorare la capitale, la firma di Gianfranco Viesti, gli impegni traditi. E poi in taglio centrale, il pianto della Merkel colpisce d'emozioni tedeschi. La Merkel ha fatto questo discorso alla nazione dicendo testualmente ci sono troppi morti, state a casa, vi prego. La cancelliera Angela Merkel al Bundestag. Leggiamo il commento, il cuore e l'estetica, due stili a confronto nel giorno più duro. Continuiamo a leggere, di spalla sulla destra, spostamenti a Natale, genitori separati potranno vedere i figli, visite consentite ai parenti anziani solo se sono malati. Ecco i chiarimenti sulla mobilità tra i comuni e le regioni. Questo in realtà non era neanche un segreto, non serviva neanche specificarlo, perché dopo il DPCM di marzo, durante il quale ci furono i primi giorni alcuni problemi, fu subito chiarito in diverse sedi che i genitori separati per diritto costituzionale dovevano e potevano e dovevano vedere i loro figli, dato che il testo degli ultimi DPCM è stato sempre identico, andava da sé, ecco che i genitori separati potranno continuare a vedere i figli, fermo restando poi tra l'altro che durante le vacanze si tratta di periodi lunghi di uno o due settimane. C'è stato comunque i chiarimenti degli esperti su queste vicende, i diretti interessati ovviamente già lo sapevano da marzo, perché è da marzo che funziona così. Leggiamo sulla destra, statale, lo sciopero generale, ai tempi del Covid è un flop sotto il 5%, le adesioni, anche qui tanta polemica per nulla. Taglio basso sulla sinistra, albinati davanti al foglio bianco, i ragazzi si rivelano, scrivere, aiuta i ragazzi a riflettere, dice Edoardo Albinati. Leggiamo poi un taglio alto, shock nel basket, Virtus Roma ora è finita, Totti si arrende e ritira la squadra dal campionato, la FIP dice danno per tutti. E noi dal messaggero ci spostiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, che apre sui dissidi interni al governo, e allora andiamo a leggere. Sia il MES ma il governo vacilla. Renzi attacca, non votiamo questo recovery, Conte non sto commissariando la politica, passa il nuovo salva stati, resta la tensione, Zingaretti serve più collegialità, la Lombardia da domenica è zona gialla. Leggiamo sulla destra, lo spauracchio delle urne tra i corridoi del Senato, il racconto, e insomma si parla del timore di molti senatori di tornare a votare. Tutte le misure del Natale, i chiarimenti del governo, anche qui anziani soli, quarantene, rimborsi, negozi, ristoranti aperti, tutto quello che si può fare fino al 15 gennaio dell'anno nuovo. Ancora l'analisi politica di Antonio Polito, il fragile equilibrio, che effettivamente oggi come oggi è molto fragile. Le regole incerte di Marco Imarisio. Si parla di un luogo dove a Natale sarà quasi impossibile attraversare la strada, tantomeno andare in chiesa o al ristorante per ritirare il pranzo e chi potrà fare una cosa non potrà fare l'altra. Si chiama Quarto, è una popolosa frazione che dipende da tre diverse amministrazioni comunali, quelle di Piacenza, Potenzano e Grossolengo. Quindi questi sono dei casi limite che vengono presentati. Qui la foto centrale, l'esultanza di Paolo Rossi dopo la vittoria sulla Germania nel Mondiale del 1982 in Spagna. Dio a Paolo Rossi, l'eroe del Mondial, l'ex calciatore morto nella notte, era malato da tempo. Di spalla sulla destra, delirio di gelosia è un caso, il marito assolto per il delitto, il PM aveva chiesto l'ergastolo. Anche qui bisogna specificare che Antonio Cozzini, 80 anni, non sono state depositate le motivazioni di questa sentenza che ovviamente fa gridare allo scandalo, ma erano stati rilevati diversi disturbi psichici per quanto riguarda questa persona. Ed era poi la linea difensiva dei suoi avvocati. Quindi qui non è che è stato giustificato per una persona normale il delirio di gelosia, perché nulla giustifica ovviamente uccidere la donna. Andremo a leggere poi le motivazioni quando usciranno, ma probabilmente, anzi sicuramente, si farà riferimento soprattutto alla stato mentale di questa persona. Il commento, il codice, le parole, gli alibi. E questo era il Corriere della Sera, chiudiamo con questa notizia in taglio alto, la foto di Antonio Conte, Inter, la grande delusione, è già fuori dall'Europa, Champions Atalanta invece è qualificata. Nel momento della prima pagina della Repubblica, che non è molto tenera con il governo, anche se non lo critica apertamente, ma spesso e volentieri quando può, ecco, fa le sue critiche, andiamo a leggere Renzi Conte, il grande duello, ora la crisi è più vicina, quindi lo certifica anche Repubblica. Il leader di Tagliaviva lo attacca sul recovery, va cambiato, se vuole poltrone prenda quelle dei nostri ministri. Zingaretti, il governo risolve i nodi, si cerca la mediazione sul ruolo dei manager che gestiranno i fondi. Il premier, con le polemiche, l'Italia perde, ma pronto a trattare. In taglio centrale, le idee. Il progetto del futuro parte già vecchio e poi se dimentichiamo i bambini e le donne. I protagonisti, lo spariglio e la furbizia. Si parla ovviamente di Matteo Renzi e Giuseppe Conte, che non sono mai andati troppo d'accordo. Fermo restando, ricordiamo che fu Matteo Renzi a dare vita, praticamente, a questo nuovo governo a guida Conte. Taglio centrale, la foto di Angela Merkel alla cancelliera tedesca. Leggiamo qui nella area di Tascalia. Sotto la foto, la commozione di Angela Merkel al Bundestag nel chiedere ai tedeschi di restare a casa dopo i 590 morti Covid di ieri. Per la Bild è stato il discorso più emotivo della sua carriera. Intanto dall'estero a Londra andiamo in alto. Allarme e allergie da farmaco. Merkel si commuove per i morti tedeschi. In basso, invece, pancino antivirus. 3.000 medici da arruolare. Di spalla sulla destra, quei campioni in ginocchio per dire no al razzismo. Terminato di giocare il Paris Saint-Germain contro il Basak-Seshir dopo che la partita è stata interrotta per dei presunti insulti razziali del quarto uomo, dell'arbitro quarto uomo, nei confronti di un giocatore della squadra turca. L'Atalanta batte l'Ajax e passa in Champions. L'Inter pareggia ed è fuori. Continuiamo e finiamo dalla prima pagina della Repubblica. L'economia. In taglio basso Exor con Hermès nasce l'alleanza per il lusso cinese. Poi Unione Europea e Regno Unito sfidano assieme i colossi del web. E noi dalla Repubblica ci spostiamo alla prima pagina della stampa che, per il secondo giorno consecutivo, apre con le parole del Premier Conte. E allora, vediamo cosa dice Conte. Vado avanti solo se c'è fiducia. Porto la task force in Parlamento. Intervista a Provenzano che attacca Renzi. Ora basta. Ricatti, ministro per il Sud. Provenzano. Via libera di Camera e Senato alla riforma del MES alla vigilia del Consiglio Europeo, ma è scontro sul recovery. Marcello Sorgi scrive. Maggioranza. L'apocalisse è rinviata. Capo di governo fragile e insostituibile. E poi la capogruppo di Tagliaviva, Maria Elena Boschi. Il Premier mi interessa di più il destino dei medici. Resta alta la pressione sull'esecutivo. E qui la foto di Angela Merkel. Germania blindata. Nei lacrime di Angela. Ci sono troppe morti. È inaccettabile. Piemonte e Lombardia da domenica. Zona gialla. La nostra guerra al virus del futuro. L'ONU lancia l'allarme sui nuovi focolai. Mi spalla sulla destra. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini. Alle partite IVA ha già versati 9 miliardi. L'evasione ne costa 90. Questa è la denuncia di Ruffini. La sentenza. Se il femminicido è delirio di gelosia, nei tribunali torna il delitto d'onore. Qui si parla già di motivazione. La firma di Michela Murgia, ma ripeto, le motivazioni non sono state depositate. Certo, alcune parole magari sarebbe meglio ponderarle un po' di più, ma per chi non ha seguito questo caso e legge semplicemente delirio di gelosia, si può pensare alla qualunque fondamentalmente e giù fiumi di inchiostro a crocifiggere i giudici. Ripeto, in questi casi sarebbe buono aspettare le motivazioni e quantomeno sforzarsi di andare a rivedere un po' tutto quello che era successo, che è stata la linea difensiva, ma sottolineando i problemi psichici, mentali della persona che ha commesso il delitto. Comunque, andiamo avanti. Il caso, quell'arma puntata su, chiamiamo di più, il delitto di un figlio e la morte di un marito. In taglio basso, razzismo, arbitro e giocatori in ginocchio, l'Atalanta vince e va agli ottavi, l'Inter pareggia e lascia l'Europa. Andiamo al fatto quotidiano, fatto quotidiano che attacca Renzi, Matteo Renzi, cioè in questo scontro al governo tra l'attuale Premier Conte e l'ex Premier Matteo Renzi, il fatto quotidiano, bastatemi il termine, si schiera con il professor Conte. Renzi accusa Conte di ciò che faceva lui. Questa è la sintesi del fatto quotidiano, minacce senza crisi, passa alla risoluzione del MES. Senti chi parla, da Premier piazzò ai suoi commissari ovunque con pieni poteri, ora i suoi istrali anti-Premier sono applauditi dal centrodestra. Fronda Movimento 5 Stelle, 15 no sul MES. Andiamo a vedere sulla sinistra. Ma che MES? BC e compra 80 miliardi di debito italiano. Recovery cade il veto. Giornali politici e talk di destra, violate il DPCM, disobbedienti incivili. Questa è l'accusa del fatto quotidiano. strage jolly nero, sospette tangenti per i controllori, PM, si parla di ticket gratis. Uccise sua moglie ma viene assolto, delirio di gelosia, il Brescia, il PM, ricorre. Gara di solidarietà, povera Boschi, spettinata da Lilli Gruber, la firma di Selvaggia Lucarelli, che dice a 8 e mezzo si è consumato un pestaggio. Ma che dico pestaggio? Un omicidio. Ma che dico? Un omicidio? Una mattanza. La vittima? Un'inerme, fragile. Maria Elena Boschi, ora giustamente celebrata da chi le voleva bene. Anch'io desidero ricordarla come una brava ragazza. Una che disse, se vince il no al referendum, me lascio la politica. E poi ho trovato più incisivo lasciare la riga da una parte per la frangetta. Questo l'editoriale di Selvaggia Lucarelli. Taglio centrale, vaccini di massa rischiosi. UK fuori, 21 milioni di allergici. Pfizer e non solo. Reazioni avverse. Parlarasi. Ex numero uno di Ema. La prof. Archipova. Scarabèi, vaccini, tuberi. Il catalogo di tutti i complotti. Noi dalla prima pagina del Fatto Quotidiano ci spostiamo sulla prima pagina del tempo. Il tempo di Roma che lancia un'esortazione vera e propria. Renzi, questa volta, facci sognare. E vuol dire, facci sognare e fai cadere il governo, tradotto. Il leader di Tagliaviva attacca il premier sui troppi poteri sui soldi del recovery fund. Giuseppi non se lo attendeva e innesta subito la retromarcia, rischiando di perderci la faccia. Ma non basta la lite fra comari, perché chi guida oggi il governo non può gestire 209 miliardi. Sui vaccini troppa propaganda. Serve un piano e più sincerità. Basta con le passerelle politiche, scrive Francesco Storace. L'ultima sfida delle regioni. Il governo ricorre al Tar contestati di vieti per Natale. Poltronissimi, alberghi e palazzi, Bonolis vuole diventare il re del mattone. Leggiamo in taglio centrale, notizie arrivano dal Lazio. La rivolta dei ristoratori contro D'Amato, che è l'assessore regionale alla sanità. L'assessore alla sanità del Lazio ha ipotizzato la chiusura dei locali fino a primavera. Intanto in Viale Eritrea battaglia contro i cordoli sono inutili e pericolosi. E poi Champions League, Atalanta Ok, Inter fuori, Lazio, incubo, sorteggio. E questa era la prima pagina del tempo, ma chiudiamo con il tempo di Osho. Alla fine il Movimento 5 Stelle approva anche la riforma del MES, tanto che Di Maio dice a Conte che poi pure sta accadimento su Benetton. Boh, come a dire, cambiamo idea anche sulla questione Atlantia, così come è stato fatto con il MES e con altre vicende. E noi dal tempo passiamo alla prima pagina del giornale, che si lancia in una previsione. Addirittura forse azzardata, perché quanto si raccoglie poi in Parlamento, specialmente al Senato, nessuno ha voglia di andare a fare le elezioni, specialmente nella maggioranza. Ma il giornale scrive Conte, quasi fuori, aria di crisi. Sarà per sé al MES, ma Ranzi lo mette all'angolo sulle recovery. Dal PD al Colle fino ai Grillini, il premier ha perso la fiducia di tutti. L'ultima offerta sui fondi UE. Task Force allargata a Italia Viva. Andiamo a leggere l'editoriale ad Alberto Signore. L'ultima spiaggia, il salvagente del rimpasto. E ancora la politica. Riecco il governo giallo-verde in tribunale per la Gregoretti, convocati nell'inchiesta su Salvini. Vediamo il premier Conte e Danilo Toninelli, all'epoca ministro delle infrastrutture e trasporti. Di spalla sulla destra, nuovo esproprio del PD, taglio forzoso degli affitti. Altra mazzata sulla casa. In realtà questo è un emendamento, la legge di bilancio, che prevede il diritto per chi vive in affitto di pretendere la rinegoziazione del canone. Unico requisito richiesto è sostenere di avere subito un calo del reddito di almeno il 50% o comunque una diminuzione dei guadagni tale che il canone d'affitto arrivi a pesare per oltre il 30% sullo stipendio mensile. Basterà una semplice autocertificazione. E qui leggiamo, scarsa partecipazione, lo sciopero per gli aumenti diventa un flop. Non era uno sciopero per gli aumenti, era uno sciopero per chiedere di andare a ridiscutere un contratto nazionale scaduto da anni, non da giorni, da anni. Questo contratto nazionale è scaduto, quindi c'è in ballo anche l'aumento, ma c'è in ballo ovviamente anche tanto altro. Allergici, niente vaccini, ma arriva la cura in 48 ore. Dubbi su Pfizer, speranza monoclonali. Nei giorni scorsi si celebrava il Regno Unito, che era già partito con i vaccini, adesso oggi anche chi lo celebrava, tra questi c'era pure il giornale, che dice avete visto in Italia come siamo lenti, in Europa come siamo lenti e come siamo brevi nel Regno Unito. Ovviamente non titolano il Regno Unito, costretto a fermarsi, ma lo scrivono qui. Il Regno Unito è già costretto a frenare sulla vaccinazione di massa, però ovviamente non si nomina in questo caso, perché diceva addirittura, ieri scrivevano salvato dalla Brexit. Brexit è stata la salvezza, questo uscirà l'Europa la salvezza, e invece sono già fermi. Da DPCM a Spide, le ossessioni dell'anno nero, e qui il solito bilancio di fine anno con le parole più cercate nel 2020. Ecco qui, femminicidio, sentenza sciocca, assolto per delirio di gelosia per i giudici, l'uomo non era in sé. Leggiamo in taglio basso, i nuovi magistrati della lingua censurano persino il Rocci, battuta sul gineconomo incriminato per sessismo. L'arbitro che vede nero e il tic del razzismo a comando, la partita di Parigi e la svista sul termine romeno. E poi festa Atalanta, disastro Inter, è fuori dall'Europa, ovviamente la Champions League. E dal giornale noi andiamo sulla prima pagina di Libero, che apre in maniera completamente diversa rispetto agli altri giornali. Si concentra su quello che è accaduto in Vaticano e su tutta questa inchiesta riguardante questa donna Becciu, che pare abbia creato dei problemi. Allora, vediamo. Il Vaticano cade nel ridicolo, scrive Libero. Accusa a Becciu, offesa al re. I PM d'oltre Tevere usano le farneticanti rivelazioni di una spia per affibbiargli un reato preso dal codice Zanardelli del 1889, assieme ad altri tre. Grazie all'Espresso, Francesco ora è Pio Nono, la firma di Vittorio Feltri. E poi la politica. Conte è il migliore di tutti i peggiori. Il Premier è indistruttibile. Ancora la firma di Vittorio Feltri, che scrive un paradosso, qui sbaglia spesso, ma non fallisce un colpo. È al comando del governo Don Bienio e Passa, ha affrontato problemi di ogni tipo, eppur non avendone risolto uno che sia uno, è riuscito a cavarsela alla grande, rimanendo miracolosamente in piedi. Poi l'analisi politica in taglio centrale. Sulla sinistra Matteo Renzi, cala le brache anche in questa circostanza? Si chiede libero? Il duello sui fondi UE. Dall'altra parte sulla destra vediamo Renato Brunetta. Brunetta salva le terga a Movimento 5 Stelle, però riesce a perdere la faccia. Il forzista vota con i grillini in Parlamento. E di spalla sulla destra. Campagna anti-Covid, ed ecco perché è utile e sicuro il vaccino. Il siero nelle regioni, il Lazio avrà il doppio delle dosi. Ecco qua. Andiamo a vedere poi, in taglio basso, sulla sinistra, critica uomo in gonna, Lady Collovati, linciata. Si parla di due assurdi episodi provocati dal pensiero unico. Chiama nero un nero, arbitro viene linciato, la firma di Gabriele Fazzi. Poi Enigma Felino, misteriose fughe dei gatti di casa nostra. Qui l'inchiesta di Azzurra Barbuto. Taglio basso sulla destra, invece, Champions League, strepitosa Atalanta, l'Inter non ce la fa. Ridono solo i nerazzurri, i nerazzurri o robici. Questa era l'ultima prima pagina che vi volevo proporre quest'oggi, ma come ogni giorno, ovviamente, prima di salutarci, vi invito a seguire anche il nostro sito internet di riferimento per quanto riguarda le notizie, ovvero radiocusanocampus.it se solo si aprisse. Ecco qui. radiocusanocampus.it il sito dell'informazione a chilometro zero. Perché? Perché le persone, i conduttori che vedete in tv sono gli stessi che ascoltate poi il radio sul radiocusanocampus, sono gli stessi che poi quello che fanno in radio e tv lo riportano sul sito radiocusanocampus.it Per questo possiamo tranquillamente parlare di informazione a chilometro zero potete trovare sia notizie fresche che non trovate da nessun'altra parte che approfondimenti con ospiti importanti delle principali notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Ad esempio, qui si parla dello scandalo delle mascherine. Questo è un consigliere dei Fratelli d'Italia del Lazio delle mascherine nel Lazio e si parla di un caso insabbiato mediaticamente. La procura faccia giustizia. Si discuta ancora di questa scorta di mascherine nel Lazio che ha fatto appunto molto molto discutere. E qui il segretario di ANAO associazione che si dedica ai medici tanti medici ma pochi specialisti e denuncia in questo articolo il fatto che nonostante la seconda ondata se la si sapesse la crisi strutturale della sanità non si è intervenuto per assumere nuovo personale. Si parla anche della prospettiva le soldi distanziati tra i vari settori italiani per utilizzare i soldi del recovery sono 9 miliardi alla sanità. Andatelo a leggere raggiacusano campus.it Io ringrazio per i microfoni luce parte tecnica regia scenografia Rachela Beian un saluto dal sottoscritto Mattatorrioli termina qui la rassegna stampa restate con noi qui l'informazione non si ferma mai. Grazie a tutti.